In questa teca, Cactus, uno degli oggetti più iconici del design italiano, è l'esplosione della creatività italiana nel 1972 ad opera di Franco Mello e Guido Drocco per il marchio Gufram. È un attaccapanni in poliuretano espanso e nasce da un'idea che può apparire contraddittoria e cioè proprio un oggetto in poliuretano espanso costituisce l'invito ad un riavvicinamento già negli anni 70 alla natura, a un coinvolgimento della natura nella vita quotidiana.